Burroni attivi sulle dune nel cratere Kaiser. I burroni sono una caratteristica di Marte molto interessante da studiare, in particolare perché stiamo ancora imparando a conoscerne la formazione e i processi geologici attivi che agiscono su di essi. In questa immagine, vediamo dei calanchi di grandi dimensioni su una enorme duna Barshan. In passato sono state scattate altre immagini di questi calanchi, in quanto presentano i segni di una recente attività geologica. Con il termine attivo, si intende la comparsa di cambiamenti nell'arco di pochissimo tempo. Ciò che ci interessa è, qual è il meccanismo di tali cambiamenti? Questi cambiamenti coincidono con la comparsa del ghiaccio? Inoltre, il terreno intorno alla duna sembra essere di colore molto più chiaro. In questo modo possiamo cercare anche i cambiamenti nel grembiule e detriti davanti la duna.